attenzione eccola che ti ho preso? il cappinarolo dai cammina cammina ci vuole il tempo la paglia brava vai adesso si che puoi fare le passeggiate sei contenta? ti piace? eccolo 3 2 1 vai 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 la fe così più forte? va bene così ah guarda quanto è bello sempre con il giacchetto e via sei contento? eh sì come una pasqua adesso anch'io voglio stare con lo smanicato come te dentro casa una nuova moda anzi tutti voi dovreste stare con lo smanicato dentro casa eh lanciamo sta moda dai vediamo quanta gente sta con lo smanicato dentro oh vattene levati i coglioni mannaggia la madre oh vattene levati i coglioni ma era per lanciare una moda ma adesso che devi scappare scappa levati i coglioni sono rientrato adesso sono rientrato adesso dimmi che stai fa la sega col coltello a sega ma che stai fai depreciso oh no sempre nervoso state tranquilli ma se sempre rompi i coglioni no ma c'era bisogno di fare questo? si perché? perché si stiamo sempre stessi lavoretti oh eh da lui gli dà gusto